Buongiorno a tutti quanti, oggi è il 3 luglio, siamo già a luglio, mamma mia, il tempo corre e dire che l'estate è appena iniziata e io non farò mi sa più niente sono appena tornata dal mare più che altro, ho durata molto poco perché i miei sono andati a Senigali e ho casa tutta per me, però ho deciso di seguirle per qualche giorno perché un po' di sole ci vuole infatti ho proprio il tintarella, allora adesso più che altro mi sto prenotando per domani mattina che andiamo ad arrampicata, prenotarsi perché bisogna essere un numero massimo, domani è il 4 dalle 10 alle 12.30 ci sono già 8 persone, domani inoltre io e Brian Sito facciamo 7 anni e ieri ci siamo scannati, vabbè, no non proprio scannati però fa caldissimo, in camera in me poi batte il sole e non si accende il condizionatore e tra poco prepariamo il pranzo perché è già l'una sono comunque stata stamattina ad un colloquio di lavoro per un'agenzia pubblicitaria che è proprio quello che io sto cercando e quindi se poi mi prenderanno sarà proprio un ruolo che mi interessa tantissimo quindi sono molto emozionata perché comunque mi hanno detto di andare a fare una prova la prossima settimana di due volte, insomma di vedere un po' l'ambiente e tutto quanto comunque stamattina sono stata nell'agenzia ed è bellissima, mi è piaciuta molto perché è stato proprio un bel colloquio, molto dispessore, cioè molto pieno cioè è stato veramente un colloquio come forse dovrebbe essere poi ovviamente dipende anche dalla persona che ti trovi di fronte io comunque in questo ultimo anno ho fatto altri colloqui e ero proprio insapore, cioè proprio due o tre minuti, una chiacchieratina così veloce zero domande, su di me soprattutto così e invece questo mi ha anche quasi psicanalizzato questo signore qua ed è stato insomma molto profondo io pianto come una fontana perché io non riesco a trattenermi poi questo mi fa incavolarlo, non ti devi vergognarmi non mi vergogno, io sono incazzata, perché devo sempre piangere? poi perché già avevo la voce tremolante perché io la voce tremolante si inizia a parlare di qualcosa che mi appassiona che mi prende di me, che ne so non ho la voce tremolante però se parlo con una videocamera pensavo che mi avesse aiutato youtube e i social, invece non mi hanno aiutato perché comunque la voce tremolante dal vivo ce l'ho vedi adesso come sono sicura di me, come sono che sono aggressiva, invece no l'aero perché? perché? scusate, piccolo sfogo devo leggermi dei libri su cercare di controllare di più se stessi e le proprie emozioni comunque me ne avete già consigliati perché un po' su instagram ne ho parlato, ho fatto un post e comunque è stato veramente un bel colloquio mi è piaciuto veramente tanto e per fortuna cosa persona comunque mi ha deciso di darmi una possibilità e in più mi ha detto di credere di più in me stessa cosa che mi hanno sempre detto tutti quanti ma io, vabbè, non lo so comunque basta e direi che possiamo preparare il pranzo assieme abbiamo un po' di riso parboiled c'era da quello lì aperto e pisellini poi ho tirato fuori questa mattina da scongelare del pollo comunque volevo presentarvi questo nuovo amico è la lampada che usano i tiktoker questo ecco, l'obiettivo non era tanto per fare dei tiktoker vedete infatti qua in mezzo ci va il telefono è comunque un bel lampadone che soprattutto d'inverno quando c'è poca luce con questo ecco, insomma una bella luminosità e posso scegliere luce calda, luce fredda e l'intensità e mi sto trovando molto bene vanno regalatemi i miei amici per il compleanno perché hanno detto che chiacqua c'è bisogno di un po' di luminosità in più nelle tue foto fa un po' più cagare e niente comunque lo tengo sempre adesso quando poi torneranno i miei chissà diranno o tu o lui perché è tipo è alto come me ogni volta che comunque con la coda dell'occhio lo vedo penso sempre che ci sia qualcuno perché comunque è alto e quindi c'ho l'ansia ogni volta un'altra cosetta ho fatto dei biscotti la ricetta non è mia ma è di Fitbackery probabilmente la seguite su Instagram non lo so lei mette tantissime ricette e inoltre c'è anche un posto proprio dove le vende li vende anche online e tutto quanto e sono questi qua e dato che io ho delle proteine gusto vaniglia di bulk che non riesco a utilizzare così sono troppo dolci devo usarle appunto nelle preparazioni torte e cose così e in questa ricetta della ragazza che ho trovato su Instagram c'era proprio l'uso del proteine in polvere ben 80 grammi quindi ero molto felice di usarlo ho utilizzato le cose che avevo in casa e sono tutti prodotti che potete benissimo reperire su bulk powder se magari ce li avete anche già che ne so oppure sono cose tipo la farina di cocco la trovate anche ovviamente e nei negozi e comunque vi lascio sempre c'è sotto il link in info box per avere tutti gli sconti aggiornati comunque sono abbastanza buoni non vi aspettate dei biscotti perché sostanzialmente non hanno neanche carboidrati e poi appunto per eliminare un po' di roba che si ha in casa tipo usate anche del gran burro d'arachidi io ho usato il burro di mandorla un po' di roba giallo va anche sul gelato buono emiliano Sì Fa un caldo Riprendere, fare le cose Con questo caldo, cucinare Il piatto è bollente Bollente Come avete visto Pranzo molto semplice Veloce, facile Bolle, pigillini Riso, è venuto a strada Io non uso comunque Sarà la cottura fatta in quel modo E ho sporcato su una padella Non ho niente comunque in frigo Tipo di verdura e altre cose Devo andare a fare la spesa Non ne voglio Ma per fortuna sotto casa Hanno aperto un supermercato Di quelli un po' Scausetti Però costa poco E proprio per i pigillini Per me che non c'hanno mai fare niente Bello caldo Un po' salato però Oddio Sono quasi le 5 Si vede che sono un po' distrutta Cioè ho sempre perennemente i capelli legati Perché muoio dal caldo E già non so più che forma abbiano Veramente sono distrutti Sto morendo veramente di caldo Però fuori prima Cioè è brutto tempo Poi per non entrare in casa Cioè stamattina fuori C'era un po' d'arietta Si stava anche abbastanza bene Invece i giorni che è stata a Senigallia Vado al mare per rinfrescarmi Vado? Vado? Cioè la faccia disperata Comunque ho fatto andare Alla seconda lavatrice Adesso se mi vede mia madre Dice come due lavatrici Quanto mi fai spendere? Ne faccio due oggi Così non le faccio i prossimi giorni Ho lavato un po' le federe dei cuscini della sala Un po' tutte le cosine Devo quelle pulizie che faccio spesso Cioè faccio quelle volte d'estate Quando non ci sono i miei Perché Poi non lo so Sono più La bella lavanderina d'estate E niente Adesso dovrei andare a fare un po' di spesa Qua sotto come vi dicevo La mia voglia La voglia si legge proprio nella mia faccia Sono lunedì i miei Per merenda mi sa che la faccio dopo Perché adesso ho un po' di fame E ho delle mail Ho visto in frigo Che devo dire che tengono botta da un bel po' E poi niente Magari vi faccio una piccola lista Di quello che dovrei prendere No Va da sentimento Però so che quando Forse Primo o poi Andrei a vedere da sola Sicuramente Le liste vanno fatte Perché se no Si tende a comprare Magari tutto di più Cose che non servono E invece vabbè Tanto io quando sono a casa da sola Non anche prendo tante cose Quei miei Tipo mio padre Lui deve avere 800 milioni di miliardi Di tipologie di frutta e verdura Diverse in casa A me bastano Quelle due o tre cose Andiamo dalla spesa Sto zitta Basta Pantaloni lunghi Per soffrire Ancora di più Il caldo Però Non mi va di andare Gli bandanucci Mi urti Mi sento un po' a disagio Quest'anno Non perché io mi vergogno Del mio corpo Però boh Troppa gente Che fissa Tipo ieri Li ho messi Sono andata a casa Del mio ragazzo La sera Ho detto tanto Ho la macchina Già qua sotto La parcheggia Vicino casa Non faccio un tratto A piedi Lungo Quindi ho detto Li metto Quando sono arrivata C'era della gente Un po' all'intorno Ovviamente tutti a fissare Uomini Perché bisogna sentirsi Sempre così a disagio Che palle Davvero Invece al mare Mi sento proprio Forse perché la gente È pituata Sono tutti mezzi nudi Al mare Caldo Caldissimo Oh Oh Era un po' caldo Ehm Poi non è Solo caldo Caldo Umido Succo Succo Caldo Anche questo Succo Sono viva Ho fatto la spesa Beh ve l'avevo già detto Giustamente Vi faccio vedere Che cosa ho preso Partiamo dal succo Succo 100% frutta Ci piace Buonissimo L'ho già provato Come avete visto Questa pasta qua Che sono tipo i gnocchetti sardi Che in realtà Non sono proprio i gnocchetti sardi Perché io ho visto i gnocchetti sardi E sono un po' diversi Comunque questi mi piacciono un sacco Queste le orecchiette Tipo col pesto Ciao Vabbè non ho il pesto Ma è buono Tipo i pomodorini Un po' di basilico Mi sta crescendo il basilico Dilasse Se muovisse un pochino Quello del pamboletto Che questo lo tengo Da Brian Che quando mi faccio Il french toast Poi Se Brian volesse venire Cosa mia A dormire La mattina A lui Gli piacciono questi qua Quindi che li ho presi Insalata La mettiamo subito in frigo Non c'era quella sfusa Quindi ho dovuto prenderlo In plastica Insalata in plastica Nella busta in plastica Ova Sa mai che scatta un dolcetto In frigo Anche l'ova Ah Ce l'avevo già Eh Eh vabbè Quanto scagliere Quanto scagliere Quanto scagliere Quanto scagliere Quanto scagliere Quanto scagliere Zucchine Che quelle lì Tanto me le mangio sempre Durano anche abbastanza Grazie a tutti Le zucchine si durano Direttamente dal Brasile È venuto un brasiliano A casa mia No E il melone bianco Che adesso lo taglio Subito lo affetto Sì mi conviene Perché ne voglio già adesso Sì Mi piace un sacco Il melone bianco Però non piace a tutti Devo dire E del latte di soia Che questo qui è Super natural Io prendo quello Alla Lidl Però qua sotto C'è Ce l'hanno In questo Ma se volete Vi dico anche il nome Del posto Dove lo trovo Si chiama Penny Penny market Era aperto da poco Sotto casa E insomma Per tutta questa robetta Ho speso 13 euro C'era dei gran sconti Tutto 22% No con le liva Lo leggi chiare No comunque c'erano Eh sì Un po' di scontini Sì è la tessera Così così Che sto cantando Cetriolo Che è l'insalata Secondo me D'estate Poi Insalata Carote Magari un po' di melone Anche E pomodori Cetriolo Buonissima L'insalata Una così Per una merenda Adesso Allora adesso Io voglio Mangiare Questo Per una merenda Come lo apro Per una merenda 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 Che brava Rispetto al melone arancione Prima Questo è un pelino più acidoniolo E un po' meno dolce Però ne ho assaggiati di più dolci Quindi non è detto Poi è verdino Allora ho radunato tutto quanto Perché sto andando da Brian Ho preso la cena Ho del salume da finire Non ne posso più di salume Ne ho mangiato un sacco Una doccia ma intanto sto già sudando di nuovo E niente mi sono presa Un paio di zucchine e una carota Poi domani credo che Spero riusciamo a tornare qua a casa mia Che sicuramente saremo anche con gli altri Dopo arrampicata Così comunque noi ci vediamo A domani mattina con la colazione I'll send her my heart covered as a gift And I'll bet you'll take it into her side